benvenuti benvenuti cari amici siamo un video di questo nuovo video naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il bottone like, iscrivervi al canale, iscrivervi anche il canale telegram oggi andiamo a parlare di Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Yota, Cardano, VeChain e infine RIF Finance per cui iniziamo subito perché importantissima notizia Mastercard si affina BACT per offrire servizi cripto in particolare per i pagamenti quindi sostanzialmente anche i commercianti ok potranno ricevere criptovalute sui loro acquisti da parte di clienti questa notizia secondo me fortemente bullish perché ci proietta anche verso l'adozione ok di massa perché i pagamenti ok li fanno tutti e di conseguenza ok questo potrebbe comportare nell'ultima fase dell'anno del 2021 ok secondo me un aumento ok esponenziale dei prezzi Bitcoin naturalmente voi sapete come ad aumenti molto veloci seguiranno delle correzioni chiamiamole correzioni altrettanto veloci ora andiamo a vedere un dato molto importante è quello che ci riporta Glassnode perché pensate l'open interest è aumentato di 4 miliardi ok 4 billion quindi questa è una notizia ok da monitorare in particolare da settembre e avendo tutto questo ora secondo me l'open interest potrebbe ulteriormente ok aumentare in particolare nel mese di novembre altra notizia molto importante quella di BitGo che che integra Stax e porta ok verso gli istituzionali sia Bitcoin che la DeFi ovviamente noi abbiamo visto come l'arrivo degli istituzionali ha comportato un aumento del prezzo Bitcoin sembra che ancora altri istituzionali debbano arrivare e penso che alla fine arriveranno in retail e quando sostanzialmente arriveranno i retail ok ci sarà il grande crollo ora andiamo a vedere quello che è il prezzo di Bitcoin nel momento stiamo a 62 mila e 700 dollari qual è il prossimo target per Bitcoin ok ma lì ve lo state chiedendo secondo me sono i 76 mila dollari perché perché sostanzialmente stando a confermare quella che è la mia teoria come vedete qui avevo tracciato secondo me quando eravamo nel gennaio del 2021 questa formazione ok che si è venuta a creare rispecchia quasi identica questa formazione ok che abbiamo avuto recentemente nel settembre secondo me proprio settembre ok è stato l'anno di inesco del tutto ora che cosa avvenne sostanzialmente da gennaio a maggio ci fu un vero proprio rally e se io vado a riprodurre ok quello che è stato il rally potenzialmente ok come target mi aspetto i 76 mila dollari ora non so entro quando li raggiungeremo secondo me ok questo sarà un primo rally ne seguiranno degli altri che ci porteranno verso i 100 mila dollari una volta raggiunti i 100 mila se li raggiungeremo naturalmente come sempre sono nei consigli finanziari nei consigli trading bisognerà rivalutare ok il tutto e naturalmente fare nuove analisi ora notizia molto importante quella che riguarda la nigeria ok perché ha dato vita al naira ok la sua moneta digitale pensate è andata ok live quindi al momento diciamo i nigeriani ok una parte di loro sta scaricando questo wallet col quale andranno ad operare sostanzialmente è una stable coin che pensate si baserà comunque su rete ethereum quindi questa notizia fortemente bullish anche per ethereum che oggi si trova a 4.200 dollari ottima le action che sta avendo e secondo me ok il prossimo target su iter sono i 5.400 dollari anche qui sto rivedendo un po l'azione ok che abbiamo avuto da marzo fino a maggio questa è un po la mia idea naturalmente secondo me l'azione avrà una propulsione alzista molto più marcata ok rispetto a quella che abbiamo avuto da marzo a maggio perché potenzialmente che per se bitcoin potrebbe esplodere se a questo ci aggiungete ok l'interesse composto e che quindi ethereum ok sta già performando alla grande secondo me il tutto potrebbe non lo so eh non lo so ve lo dico però secondo me la teoria ok di raoul pal che ci dà sostanzialmente un target sui 20.000 dollari ok per ethereum secondo me è più che fattibile ora andiamo a vederci sempre come sempre ethereum contro bitcoin perché al momento siamo a 0.067 quindi un iter ok che sta continuando a guadagnare nei confronti di bitcoin vi ricordo questa trendline discendente ok di lungo periodo in cui abbiamo iter contro bitcoin secondo me l'andremo a riprendere quindi secondo me un target su 0.07 e 7 è più che fattibile vorrò vedere ok se lo romperà potenzialmente però vi vorrei dire questo perché iter è molto vicino in solta mai quindi dove se rompere in solta mai secondo me andrà a rompere anche nei confronti di bitcoin a rialzo quindi andiamo a vedere la bitcoin dominas ok perché sostanzialmente mi ero prospettato un arrivo sui 48.49 che non c'è stato che ci siamo fermati prima a 47.58 ora siamo all'interno ancora di questa trendline ascendente ok però dovesse essere bucata attenzione perché potremmo avere una season anticipata a questo punto qual è la mia teoria sostanzialmente e ve la voglio dire nel caso di a season anticipata che secondo me non finirà il tutto a ottobre barra novembre con questa season potremmo vedere questo quindi a season anticipata successivamente bitcoin che torna su quindi i mali verso i 100.000 e ancora una seconda season e là magari potrebbe finire il tutto naturalmente lo sono nei consigli finanziari nei consigli trading io andrò a vedere ok se effettivamente andremo a rompere però non escludo ok questa teoria che prima non l'avevo che contemplata sostanzialmente ora stavo guardando anche quanto ho ricercato il termine bitcoin ok ancora pochi lo stanno ricercando tra virgolette nel mondo ho visto che invece in Italia ok gli italiani ok stanno tantissimo ricercando il termine bitcoin molto bene perché state alimentando ok quello che è il sistema crypto in particolare vediamo Trentino, Valle d'Aosta, Friuli, Venezia e Giulia quindi probabilmente al nord ok ci sono ma di più soldi più investitori, più imprenditori ho visto che potenzialmente di solito sono più imprenditori ok che investono i loro soldi questa è una piccola curiosità andiamo a vedere ora Binance perché c'è una notizia molto importante ok Binance NFT lancia la sua prima initial game offer detta anche IGOR ora io vi dico la verità secondo me il trend NFT gaming è il futuro e potenzialmente in questa Buran potremmo veramente vedere rendimenti devastanti ho trovato un progetto che secondo me potenzialmente non dico che potrebbe fare 100x però secondo me casomai ve lo porterò ok anche sul canale se lo volete commentate ok ma secondo me potrebbe proprio questo settore gaming più NFT per l'appunto essere il futuro quindi Binance lancia le prime IGOR quindi potrete investire su questi progetti già prima che escano e siano listati quindi secondo me è un qualcosa che veramente potrebbe portarvi rendimenti pazzeschi naturalmente sapete che il rischio è altrettanto alto andiamo a vedere quella collection di BNB in questo momento sta lateralizzando però non escludo ok in eventuali Sky Rockets da parte di BNB più in particolare il mio target rimangono i 980 dollari so che tanto però secondo me BNB come ecosistema come notizie che abbiamo eccetera potrebbe vale davvero ma davvero bene la notizia molto importante è quella che riguarda IOTA perché pensate lancia un sistema di FI a 0 ok quindi simile a quello di Nano ed effettivamente IOTA dopo questa notizia ok ha avuto ok un piccolo pump che non è stato così ingente però comunque ok IOTA vediamo anche come fisiologicamente ok ha vari pump and dump e non escludo che è una nuova azione di pump molto marcata anche su IOTA ricordo naturalmente Stellar, IOTA, Nano sono i principali coin che potrebbero riguardare il sistema dei pagamenti in futuro andiamo a vedere Cardano Cardano mi piace tantissimo sta continuando a lateralizzare secondo me sta continuando ad accumulare e attenzione a Cardano perché potrebbe esplodere ora dopo vari periodi di lateralizzazione potenzialmente secondo me Cardano potrebbe avere un target e ve lo dico subito potrebbe avere anche un nuovo oltamai a 4 dollari questa è la mia idea naturalmente non sono nei consigli finanziari nei consigli di trading però abbiamo visto come Cardano tendenzialmente a questi comportamenti fisiologici molto marcati di pump and dump di conseguenza attenzione perché sta continuando ad accumulare secondo me potrebbe accumulare almeno fino a fine ottobre barra novembre e successivamente ok partire in particolare partire quando? secondo me dopo Ethereum avrà passato l'olta mai ora coin che sta facendo molto bene che mi piace tanto e che ho in portafoglio è V-Chain ok che pian pianino che mi piacciono queste crescite pian pianino in sordina ok V-Chain sta tornando su guardate qui il grafico comunque è più che ok indica comunque una cripto fortemente in salute in salute vi ricordo i rally ok che aveva avuto V-Chain guardate qui che rally parabolico eravamo passati in febbraio sostanzialmente da un centesimo e mezzo a maggio in cui abbiamo addirittura raggiunto i 27 centesimi quindi secondo me un V-Chain che non so che se presto andrà a passare l'olta mai però è veramente un progetto unico e di conseguenza potrebbe veramente far bene all'interno di questa Buran infine andiamo a vedere i finance ok perché ci sto spendendo tante energie e vi vado a fare l'analisi ora secondo me RIF ve lo dico subito che target ha secondo me è un target di 0.077 vedremo se effettivamente Denko riuscirà a rispettare la roadmap e perché questo target ok perché vi avevo detto che secondo me se RIF avesse tenuto il supporto dei 3 centesimi allora era bullish e secondo me ok RIF sta rispettando questo avevamo preso ok in giornata 30 20 di ottobre i 0.027 i quali sono stati subito ok ripresi i 3 centesimi e ora RIF sta lateralizzando lateralizzare sui 0.03 secondo me è estremamente bullish quindi sostanzialmente l'area di accumulo ok nella quale stavamo è stata scalzata siamo al secondo livello ora potenzialmente voglio vedere una nuova area di accumulo che potrebbe andare dai 3 centesimi ai 6 centesimi però però che cosa potrebbe succedere potenzialmente l'avevamo visto a partire da gennaio ok come c'era stato un grande rally tra gennaio e febbraio di RIF sembrava che RIF ok poteva arrivare anche a 30 centesimi questo non è avvenuto e ora secondo me si riparte dai 3 centesimi quindi potrebbe riprodurre questo movimento ok a rialzo e di conseguenza raggiungere i 7.7 centesimi questa è un problema di idea successivamente avevamo avuto uno scarico che era stato identico al diciamo al primo movimento rialzista molto marcato quindi io mi sono dato come target primo target su RIF dove se rompere i 0.058 che sostanzialmente sono la nostra resistenza i 0.07 sono il mio target attualmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo è di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo Elite se volete con un costo di 50 euro e al gruppo Premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di distruggere il botone di like iscrivervi al canale e ci rivediamo presto per cui vi ricordo per cui vi ricordo per cui vi ricordo il botone per cui vi ricordo Grazie a tutti.